E siete nello stadio del baseball di Roma e per tutti coloro che sono collegati su Sport Italia è arrivato il momento che i guerrieri entrino nell'arena fa il suo ingresso sul ring all'angolo blu lo sfidante ufficiale al titolo italiano dei pesi Superbelter da Bari Francesco il gladiatore del libertà Let's see Francesco Let's see il suo avversario fa il suo ingresso sul ring il campione italiano in carica dei pesi Superbelter di Roma Vincenzo Mediacua Guarda La P20 Produzione presenta il main evento della serata, un incontro sulla distanza di 10 rounds, valevole per il campionato italiano dei pezzi superalte, ma il sponsor RadioTaxi 3570 e Guidon Canni SRL. Il medico dell'incontro è il dottore Emiliano Bonanni di Roma, supervisore per la federazione fucilistica italiana Giuseppe Quartarone da Bologna. Giudici, signori Antonio Giubelli da Ferrara, Marco Moscatelli da Firenze e Antonello Paolucci da Lanciano. Il medico dell'incontro è il signor Sergio Dagnano da Busto Ansizio. E ora finisce il tempo delle parole, inizia la lecce per Ricchia. All'angolo blu, al peso di 69,000 e 800, prima a patrocini Nero Braci e poi con la professoressa, formato di 17 e in pronto rispettati. 9 vittorie per lui, due per il cuore per il capo, 7 sono le sconfitte ed un pari. C'è il campione mondiale Giulio IDF e lo sfidante ufficiale all'attitolo italiano dei Braci Supermette. Al suo angolo Pietro Riccardo Sgaramella con il manager Giulio Spagnoli. E gli spagnoli da Bari, il gladiatore della libertà, Francesco Messi. Il suo avversario, all'angolo rosso, al peso di 69,800, il percorso di Nero Braci, il percorso di Nero Braci, il percorso di Nero Braci e il campione italiano in carica dei pesi Supermette. A suo angolo, Simone Raissandri con Stefano Misteri, Federico Patizzone e il manager Davide Buccioni. Per la BBD Productions, da Roma, Vincenzo Bevilacqua. E ora per l'attito d'incontro, signor Sergio Dagnano, per Francesco Messi e per Vincenzo Bevilacqua, ascoltiamo l'inno nazionale italiano. Vincenzo Bevilacqua. Per la BBD Productions, da Roma, Vincenzo Bevilacqua. Per la BBD Productions, da Roma, Vincenzo Bevilacqua. Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! a tutti! Grazie a tutti! 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 a tutti!